Per oltre quattro mesi, da novembre 2018 al marzo scorso, aveva seminato il panico tra Cassano delle Murge, Santerramo in Colle ed Acquaviva delle Fonti, mettendo a segno ben 14 rapine. Obiettivi preferiti, farmacie e supermercati, ma anche cartolibrerie, negozi di ottica e perfino una rivendita di prodotti caseari. Un vero e proprio incubo per imprenditori e commercianti al quale hanno messo fine i carabinieri, mettendo le manette ai polsi ad un incensurato di 50 anni. Il copione seguito era sempre lo stesso, coperto da cappellino e passamontagna, faceva irruzione nell'esercizio commerciale, poco prima della chiusura e armato di pistola si faceva consegnare l'incasso di giornata. Poi si allontanava a piedi, facendo attenzione a percorrere strade, prive di telecamere di sicurezza. Ma ad incastrarlo sono stati gli impianti di videosorveglianza installati all'interno di ciascun negozio, i cui filmati hanno evidenziato come l'autore dei colpi fosse sempre la medesima persona, stessa corporatura, stesso abbigliamento, stesso modo di agire. L'attività investigativa condotta dai militari ha così consentito di stringere il cerchio attorno al cinquantenne, arrestato in fragranza durante un tentativo di rapina ai danni di una farmacia di acquaviva. Il responsabile è stato poi raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare relativa ad altri tre colpi messi a segno in due farmacie e in una tabaccheria. Fondamentale per l'arresto è stata anche la perquisizione della sua abitazione dove i carabinieri hanno rinvenuto il passamontagna, la pistola giocattolo è parte della repurtiva. L'uomo, già ai domiciliari, è stato trasferito nel carcere di Bari e accusato del reato di rapina, aggravata e continuata.